Una logica serrata, una di quelle logiche... Ecco, ecco come è nata la mia invenzione. Vioveda ha divotto, ma una pioggia, una pioggia davvero eccezionale. In confronto a quella pioggia lì, il diluvio di Versailles avrebbe potuto essere considerato come una siccità. Per l'appunto avevo una commissione urgente da fare. Mi trovavo sotto i portici di Ruy de Rivoli e pensavo si potrebbe camminare all'asciutto sotto i portici se si volesse. Ah, come sarebbe bello! Se io fossi il governo, obbligherei i proprietari a costruire tutte le case con i portici. Ma forse... Forse una legge così non sarebbe una legge liberale? Va bene, va bene, allora niente portici. Ma che cosa impedirebbe? Di montare davanti ad ogni negozio dei teloni atti a riparare i passanti. La Camera poi dovrebbe fare una legge per obbligare i commercianti a stendere questi teloni durante la pioggia. Poi tutto un tratto, così... Mi seguite bene, non è vero? Perché io voglio farvi assistere alla... alla genesi della mia idea. Poi tutto un tratto mi sono detto... Ma perché ogni cittadino non potrebbe avere la sua piccola tenda personale? Sì, sì! Una piccola tenda, montata su dei bastoncini leggeri, di bambù per esempio, da portare con sé, sopra la propria testa, per salvarsi dalla pioggia. Ecco... La mia invenzione era fatta.